ragazzi buonasera benvenuti e bentornati sul canale del coatto dello svapo buonasera ancora mi sono rossato armare come un peperone allora oggi non si parla né di box né di liquidi né di atomizzatori particolari ma parliamo di un progetto particolare cap campana per lo strike redress di alien mods andiamo a vedere tutto ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.